All'allenamento pomeridiano di ieri pomeriggio, in pratica una partita della prima squadra con gli allievi Rosso-Blu, e questo in vista del Varese, ha partecipato anche Nicola Beati in fase di recupero dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per diverse settimane. La sfida casalinga di domenica alle 15, non di sabato perché c'è il doppio impegno della nazionale, dovrà essere affrontata con il massimo della concentrazione. La squadra di Sonnino, allenatore a Varesino, dopo aver battuto il Novara per 3-1 in due giorni distinti e salita a quota 9 punti in classifica, vorrà, e di questo ne siamo certi, tentare il sorpasso proprio a discapito della nostra formazione. Secondo Mr. Menichini, quella lombarda è una formazione esperta che può contare sull'apporto di diversi calciatori in rossa da diversi anni, non appagata dal risultato ottenuto contro il Novara, ed essendo appena all'ottava giornata di campionato, poco provata fisicamente dalla vicenda che l'ha voluta in campo in due occasioni dopo appena un giorno di riposo. Fa bene quindi Mr. Menichini a tenere alta la concentrazione e a spingere i ragazzi all'impresa, di battere il Vares per continuare a stazionare nelle parti alte della classifica. Sabato prossimo al Palamilone di Crotone si disputerà la fase regionale dei campionati giovanili di giudo. Beh, diciamo, queste due gare, solo a sentirle un pochettino così titolate, mi fanno un po' venire i brividi nel senso positivo. Anche perché la Coppa Italia è stata organizzata qui a Crotone nel 2006, con duemila persone che sono state qua e dove la Loprete, insieme pure a Tomos e Facenta, hanno fatto il risultato in casa. Questo è un momento un po' oscuro, sia per il giudo generale della provincia, ma soprattutto per la giudo calabro, motivato dal fatto che la Loprete è all'università, la Torchia è all'università, qualcuno ha cambiato bandiera. È un momento un pochettino difficile, ma io trovo sempre la forza e la determinazione affinché il Rivaio possa riprendere per creare ulteriori campioni, insomma, spero di avere questa forza. Sabato praticamente ci sono queste due gare regionali dove la provincia, rispetto ad altre volte, non è ben organizzata, organizzata a livello agonistico, con atleti che poi possono andare a livello nazionale. Perché il primo classificato di ogni categoria avrà diritto praticamente ad andare a Roma, dove là saranno oltre 500 fra maschiette e femminucce, divise naturalmente in 14 categorie di peso, 7 maschile e 7 femminili, e si contenderanno il titolo italiano. Come dicevo, è un momento un po' difficile, ma penso che c'è un atleta di questa provincia, Thomas Facente, che certamente potrà fare un buon risultato e tenere alto l'orgoglio e l'onore di questa città. Al momento poi tutto è possibile, però conoscendo i podi che si fanno, la matematica è quella. Va bene, a parte tutto, comunque conoscendoti e sapendo quello che hai combinato nel corso degli anni, ma prescindere da questo, io stavo dicendo, da questo vivare nascerà qualche altro campione. Sì, io non voglio essere un pochettino molto ottimista, perché è un periodo che devo stare con i piedi per terra. Diciamo che ho sempre scoperto ragazze e ragazzi, diciamo, ho avuto naso, fiuti, però adesso mi è capitato, a volte è vero, che la sfortuna, cioè non sempre è negativa, oppure mi è capitato una ragazza, diciamo che è un gioiellino da plasmare, cioè una ragazza che ha tutti i requisiti dal punto di vista motorio e addirittura è superiore, sia all'oroprete che alla torce, poi allo stato iniziale. Spero di avere la forza e la determinazione di riuscire a portare questo altro successo. Questo perché, cioè, in questo momento di buio, cioè sto provando, e tante sensazioni...